La lunga attesa è finita, il campionato riparte anche per Lecce e Milan, tra poco in campo per la ventisettesima giornata di Serie A Team. Va il turco, pallone che spiove, in mezzo all'area di rigore, poi Bonaventura! La deviazione di Gabriel, Milan vicino al vantaggio, con la conclusione di Bonaventura, attento Gabriel sul primo palo. Teo Hernandez che ha spazio, se ne va il francese, si muove Rebic, Teo Hernandez, palla dentro per Bonaventura, strada chiusa, Bonaventura, pallone per Castiglieco che prova la conclusione. Gabriel dice ancora una volta di no al Milan, terzo giro dalla bandierina per i rossoneri. Castiglieco si muove Cialanoglu, palla per Bonaventura, che prova a spingere, potrebbe anche calciare, allarga per Cialanoglu. Crossa dentro e poi la deviazione di Castiglieco per il vantaggio del Milan, 1-0 per i rossoneri al ventiseiesimo, con la deviazione sotto porta di Samu Castiglieco. Attenzione alla Lecce, il tiro con il pallone che termina sul fondo di Poco, la Padula con il sinistro. Che occasione per il Lecce, intanto ancora problemi alla caviglia per la Padula. Petriccione lancia nella zona di Babacar che mette giù il pallone. Attenzione, calcio di rigore per il Lecce. Calcio di rigore per il Lecce, per lo scontro tra Gabbia e Babacar, che rimane a terra. Parte Mancosu. Mancosu, 1-1. Il pareggio della Lecce al minuto numero 9. La rimette in piedi la squadra di Liverani con la rete su calcio di rigore di Mancosu, che spiazza perfettamente Gigio Donnarumma. Che sì, lo rincorre Babacarra, subito decisivo nell'occasione del calcio di rigore. Castiglieco cerca spazio per metterla nel mezzo. Trova Cialanoglu, limite l'area, prova la conclusione, palla che rimane lì e poi Bonaventura. Subito trova il gol del 2-1 il Milan con Jack Bonaventura. Dopo neanche un minuto, Bonaventura rimette il Milan davanti. Rispoli arriva al cross di Rispoli, allontana difesa del Milan, che adesso prova a ripartire in contropiede con Rebic, che è tutto solo. Rebic davanti a Gabriel, Rebic, Rebic! Per il gol del 3-1 in contropiede, contropiede letale di Ante Rebic, che poi va ad esultare anche con un raccatapalle dietro la porta di Gabriel. Gol numero 7 per Rebic, che qui trova una prateria pazzesca. Cialanoglu, alza la testa, vuole il cross, cambia tutto. Arriva la cross e poi c'è il 4-1 di Leao, trova il gol, anche Leao. Arriva il poker rosso-nero con Leao. Valeri dice che può bastare così, Milan che vince 4-1 alla Via del Mare di Lecce. Grazie!